In questo momento diciamo che c'è un vuoto enorme per la perdita ma tanta, soprattutto tanta rabbia per come sono state gestite le cose dall'inizio veramente fino alla fine anche dopo la morte di mio padre. Dolore e rabbia nelle parole di Marco Caterino, il figlio di Francesco Caterino, il professore dell'Istituto di Nicola Sasso di Torre del Greco, morto di Covid all'età di 59 anni nei giorni scorsi al Covid Hospital di Maddaloni. In collegamento con TV City Marco racconta il calvario vissuto dal padre e dalla sua famiglia, una tragedia che ha colpito due comunità, quella torrese e quella di Capua dove il docente viveva. Ore di attesa e ritardi in una peregrinazio fra tre ospedali, prima quello di Caserta, poi il melorio di Santa Maria Capuavetere e infine il Covid di Maddaloni. Alla terza ambulanza mio padre è riuscito ad essere ricoverato e mi ricordo un particolare aneddoto che ogni giorno mi tormenta, che è quello là dell'arrivo dell'ambulanza con i tre operatori tutti e tre vestiti e con le protezioni e loro mi dicono, mi danno in mano la protezione, cioè il vestito diciamo da far indossare a mio padre e mi dicono adesso andate a metterlo a tuo padre, tu e tua mamma. Quindi loro non si sono neanche avvicinati praticamente. È stato mandato inizialmente a Caserta dove è arrivato verso mezzogiorno. Io poi mi sono purtroppo in un momento di rabbia, mi sono rotto una mano e sono andato proprio a Caserta. Sono andato a Caserta al pronto soccorso che al momento non era ancora totalmente chiuso per Covid, non so adesso come siano. E ho trovato dopo due o tre ore mio padre ancora lì nell'ambulanza fermo perché l'ospedale non voleva accettarlo, perché a quanto pare non c'erano i posti, anche se pare che i posti ci fossero. 5 ore praticamente a Caserta fuori l'ospedale per poi portarlo a Santa Maria Capavetere, dove è stato praticamente altre 4-5 ore prima di essere accettato perché l'ospedale Covid non era ancora pronto, non era ancora partito diciamo. Infatti mio padre è stato il primo paziente dell'ospedale Melorio di Santa Maria Capavetere per Covid. Poi mio padre ha continuato a peggiorare e ha dovuto mettere il casco diciamo sempre per l'ossigeno, solo che lui scelse di sua iniziativa di farsi intubare perché non sopportava la presenza del casco e visto che Santa Maria, l'ospedale di Santa Maria Capavetere, non aveva la terapia intensiva, comunque fu trasferito a Maddaloni, l'ospedale Covid di Maddaloni, dove praticamente fu intubato e gli fu indotto il coma farmacologico è stato diciamo 4-5 giorni così fino al suo decesso. Dopo la morte di mio padre sono morti in quella stanza anche altre 2-3 persone, sempre della stessa età. Sembra troppo strano che capiti in uno stesso ospedale, capitino 4-5 decessi in uno stesso ospedale, di persone comunque sulla cinquantina, nessuno aveva più di 60 anni ecco, diciamo. Ci sono molti dubbi per questo protocollo, per persone che comunque si salvano nonostante questa polmonite, anche se sono più anziani. Mio padre comunque aveva 59 anni ma sembrava comunque ne avesse 10 in meno. Come stava? È stato un colpo troppo duro. Tanti dubbi e interrogativi sulla gestione del caso e la voglia di far luce e chiarezza su quanto è accaduto. Nessuno mi riporterà più indietro mio padre, quindi se sto facendo questo, anche con molta difficoltà, è solo per una questione di denuncia sociale, per poter, anche se non so come, magari possa essere d'aiuto ad altre famiglie che possano trovarsi o che si trovino già adesso in una situazione del genere. Purtroppo di Covid si muore e chi dice il contrario, spero che non debba mai affrontare una storia del genere. Non manca da parte di Marco un appello ai giovani ad indossare la mascherina e a rispettare le regole. Di Covid si muore. Io faccio un appello, diciamo, a tutti i ragazzi della mia età, perché comunque io ho 26 anni e so che è difficile stare a certe restrizioni, ma per il bene nostro e delle nostre famiglie, anche se non c'è una zona rossa, non c'è un lockdown, cercate di uscire quanto meno possibile, mettere la mascherina e utilizzare tutte le protezioni per evitare delle storie così.